Io ci sono per i 6 milioni di bambini che muoiono ogni anno per malattie prevenibili e curabili. Per ognuno di quei 58 milioni di bambini che nel mondo non va a scuola. Per quel milione di bambini che in Italia vive in povertà assoluta. Per ogni bambino senza un domani. Con un SMS possiamo donare acqua, cibo, cure mediche, educazione. E contribuire così a salvare la vita a un bambino e a dargli un futuro. Con Save the Children fino all'ultimo bambino. Ed oggi, quanti bambini vogliamo salvare insieme? Io lo mando. E tu?